la conosci? ah non posso parlare di questo va bene arrivo e parliamo di che cosa vediamo un po cosa ci siamo ok parlare bene e con sicurezza si potrebbero dire tantissime cose di questo argomento perché parlare bene può significare appunto diverse cose parlare bene con i verbi parlare bene un buon italiano utilizzare alcuni aspetti della nostra voce e via dicendo ora cerchiamo di mettere insieme 5 6 punti fondamentali che ti fanno acquisire quella sicurezza quando devi parlare in pubblico e non solo quando devi parlare davanti ad un gruppo di persone andiamo a vedere subito da dove partire pianifica contenuto ho scritto questo perché ovviamente questo vale in base alle circostanze perché ovviamente se io mi trovo a dover parlare davanti a un gruppo di persone potrebbero essere 3 4 persone non è detto che io sia sempre abbia sempre la possibilità di preparare in anticipo ciò che dirò perché se sono in una conversazione così per così dire frivole incontro degli amici chiaramente alcuni aspetti magari quello che diremo più avanti può esserti più utile se invece devi parlare davanti a un gruppo di persone cioè una riunione che hai sai già che dovrai fare che hai preventivato oppure devi parlare appunto in pubblico è l'unico elemento per quanto possa essere ritenuto banale ma dimenticato è quello di pianificare correttamente ciò che dirai cioè preparare il tuo discorso su una base di una buona preparazione intesa attenzione non facciamo confusione su questo preparazione intendo dire non solo la preparazione dell'argomento perché quello è l'argomento che tu conosci che sicuramente sono delle basi solide e fondamentali ma anche prepararsi ad esprimere cioè a comunicare quegli aspetti lì perché spesso si fa confusione cioè come il classico la classica persona che è molto esperta e capace però non riesce a trasmettere quello aspetto come non so uno scienziato bravissimo nel sua nella sua materia però poi quando si mette ad insegnare non sa trasmetterla e la stessa cosa è quando stiamo parlando in pubblico quando parliamo davanti a un gruppo di persone quando noi abbiamo però questa base questo contenuto ben pianificato il nostro cervello è più tranquillo nel comunicare per cui riusciamo correttamente a fare parlare insomma portare avanti il nostro discorso secondo punto l'importanza della voce ovviamente un minimo non stiamo parlando di avere né una voce chissà da doppiatore né tantomeno una adizione perfetta quando stiamo comunicando nulla di tutto ciò però è importante capire come l'espressività vocale la capacità di poter dosare bene la voce portare la voce in alto o portare la voce un po più in basso cioè riuscire anche a modulare minimo un minimo i toni e io di questo troverai magari dei link in basso questo video o audio dipende da dove mi stai ascoltando vedendo o tutti gli altri video che ho fatto e saprei bene quanto abbia dedicato quanta attenzione all'uso corretto della voce che ripeto ribadisco non è una questione di diventare dei professionisti come dei doppiatori dico soltanto che avere un po di capacità di gestire la voce e riuscire ad avariare i toni a porre l'accento e l'intenzione quando stiamo comunicando sicuramente quello ci fa apparire più sicuri quello che succede invece di solito è che non riusciamo a portare bene la voce quando stiamo parlando non riusciamo a trasmettere bene le intenzioni quando stiamo comunicando e quella intenzione per chi ci sta osservando in quel momento delle volte passiamo per persone insicure perché ad esempio mi viene in mente uno degli errori più frequenti è quello di pronunciare una parola e tagliarla non arrivare sino alla fine buongiorno io sono giuseppe come sta che manca la parte finale questo perché non si è fatto un buon lavoro sulla voce un buon controllo ed è questa la cosa che poi soprattutto in alcuni casi si sottovaluta e ci si muove con quella passami il termine arroganza perché crediamo che sia importante che ne so conoscere solo l'argomento e non ci può non importa nulla insomma di di tutti questi aspetti che sono legati alla espressività vocale terzo punto e pensiero e concetto singolo cazzaro la significa sta cosa viene qua allora se tu hai davanti a te che ne so devi hai un piccolo tubicino e devi far passare degli oggetti lì all'interno hai solo un tubicino e poi a un bicchiere devi passare delle palline all'interno di questo tubicino no non sono impazzito stai lì non so comunque metto queste palline le faccio scendere all'interno di questo tubicino e li faccio andare all'interno del bicchiere allora cosa succede tu tecnicamente prenderesti una piccola pallina la fai passare su questo tubicino una cannuccia e va a finire nel bicchiere se se dovessi prendere 3 4 palline e le metti all'interno del tubicino non riesci vanno fuori non so viene una cosa confusionaria e tu mi dirai vabbè ma questo è semplice se una cannuccia o delle palline da mettere dentro questa cannuccina e poi vanno finire in questo bicchiere è normale che ne metta uno per volta sì quando parliamo dobbiamo fare la stessa cosa nel momento in cui stiamo comunicando dobbiamo avere in quel momento un concetto per volta questo vale se usi delle slide se stai comunicando stai portando un'idea per volta quello che facciamo delle volte che sembriamo insicuri è perché quando stiamo parlando cerchiamo di mettere più palline nello stesso momento più concetti nello stesso istante e questo chiaramente per chi ci ascolta finisce che non capisce e la è lo stesso effetto nella sua di testa come quelle palline che vengono messe cinque sei palline all'interno della cannuccia nello stesso momento per cui la cosa che dobbiamo ricordare nel momento in cui sto comunicando fermo lì ci sei lo so e magari aspetta un attimo ok stavo dicendo quindi mettiamo 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 mettendo queste cose qui io ti dico mettiamo una pallina per volta un concetto per volta questo è ora io fa tutto questi questi suoni visto nel momento in cui fatto così come il tuo cervello stava andando in 50 cose oddio che cosa sta succedendo ecco quello è l'effetto che si crea delle volte e siamo anche infastiditi di tutto quel caos invece noi dobbiamo comunicare correttamente un concetto per volta andiamo avanti number four logica e coscienza questi sono molto collegati al discorso delle palline che abbiamo fatto finora non si non sto rompendo le palline con sto discorso e per farti capire che la logica e la coscienza allora quando io sto parlando quando sto comunicando sto portando avanti una frase un'idea succede che mentre sto mi sto esponendo sto portando avanti se non ho comunque creato una buona base o una buona struttura di ciò che sto raccontando c'è il flusso della mia coscienza cioè i pensieri che arrivano e allora quello che succede è che spesso quando noi stiamo parlando non stiamo seguendo la logica di quello che dobbiamo dire del discorso seguendo un'ottima struttura mentre stiamo comunicando e nel mentre la tua testa aggiunge dei concetti mi vengono in mente delle cose allora non è che se ti viene in mente qualcosa tu la devi annullare la devi mettere da parte allora o lo spieghi che ne so io adesso sto parlando dico aspettamente di sto parlando mi viene in mente una cosa e allora la aggiungi però dicendole in questa maniera il discorso riesce qualche maniera ad essere seguito ma se io non faccio questo quindi sto dicendo domani vado a comprare delle caramelle e ok domani vado a comprare delle caramelle e il flusso logico di quello che devo dire ma se dico domani vado a comprare poi nella mia testa mi viene in mente una bicicletta e poi vado a prendere caramelle allora tu chi ti ascolta dice ma scusa me stavano delle caramelle adesso la bici che cosa c'entra proprio perché nella tua testa l'autocoscienza stanno sviluppando nuovi argomenti però tu ti devi sempre ricordare che hai una logica da portare avanti in quello che racconti quindi se ti viene quel pensiero dovresti pian piano abituarti non ad annullarlo però a dargli un ordine o premetti e dici benissimo stavo parlando delle caramelle adesso benvenuta in mente la bicicletta quindi come se mettessi un segnale a chi mi ascolta altrimenti inutile che metti quel concetto che non c'entra nel discorso che stavi portando avanti perché poi la cosa che noi facciamo ed è l'errore che poi capita dal punto di vista comunicativo e che diamo delle cose per scontate magari noi nella nostra testa abbiamo dei pensieri che secondo noi potrebbero essere logiche ma le persone le persone che ci stanno ascoltando non hanno le stesse conoscenze in quel momento perché noi diamo per scontato invece noi non possiamo dare per nulla per scontato quindi tutto ciò che andiamo a pronunciare con le nostre parole deve essere spiegato e riportato correttamente questo è quello che dovremmo ipoteticamente fare poi si può anche sbagliare non è quello il problema però insomma di base dobbiamo pensare a quello nel frattempo è arrivato l'altro punto che è il punto di vista degli altri che possiamo definirlo la base di quando si comunica perché quando io sto parlando e ho davanti a me delle persone e quindi cosa succede dovrei cercare per quanto mi sia possibile lo dicevano anche i grandi scrittori io penso a twain che spesso ripeteva il fatto di dover indossare le scarpe del tuo lettore cioè metterti nei panni degli altri questa è una cosa decisamente difficile perché non viene applicata e questo è un parlare bene che non è soltanto dovuto al quando stiamo parlando in pubblico perché io mi posso trovare posso essere a capo di un ufficio posso essere responsabile non so un cliente che mi sta parlando in quel momento la mia capacità è quella di rispondere quando c'è qualcosa che ci infastidisce che una delle cose più frequenti dove questo errore proprio si 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 manifesta e che quando io sto parlando con una persona e noto che c'è qualcosa che mi sta infastidendo di questa persona prima di reagire dovrei dire che cosa c'è perché mi sta dicendo in quella maniera è uno stronziciattolo va bene ci può anche stare ma aspettiamo un secondo perché potrebbe darsi che io non sia riuscito ancora a vedere con i suoi occhi questo vale in ogni tipo di comunicazione un esperto comunicatore in questo caso con una singola persona mi rendo conto se sta reagendo così perché nervoso in questo istante posso posticipare eccetera riesco a capire di più uno che parla in pubblico ad esempio dovrebbe sempre avere con una certa esperienza non dico di fartelo fare all'inizio sai giuseppe non ho mai parlato in pubblico quindi sono spaventato ho paura ovviamente quello lì è normale però io quando sono davanti a un pubblico osservo e cerco di capire un po gli sguardi per cercare di sistemare magari qualcuno che si sta distraendo oppure quando è detto qualcosa siamo reagiti in una certa maniera non possiamo certo capire tutto e indovinare tutto però bisogna sempre avere questo occhio attento al punto di vista altrui per poter poi riuscire a veicolare meglio il nostro di messaggio dopodiché andiamo a vedere conosci l'ambiente questo è fondamentale soprattutto quando parliamo in pubblico soprattutto quando abbiamo molta paura molta ansia di ciò che dovremmo fare parlare in pubblico sostenere un esame affrontare un meeting importante il nostro cervello nel momento in cui noi ci avviciniamo a quell'occasione in quel momento parte va su di giri normale perché si sta preparando a quel momento che dobbiamo insomma parlare affrontare una certa situazione allora c'è una cosa che dovremmo cercare di fare dovremmo aiutarlo e come lo possiamo aiutare non con dei miracoli assolutamente oddio delle volte si potrebbe anche pensare però quello che devi fare è che quando io vado a parlare sono già agitato il mio cervello comincia ad osservare attorno ciò che accade dove mi trovo e quindi fa ulteriore fatica perché deve prestare attenzione a ciò che io dirò nel frattempo il mio occhi anche la mia visione insomma occhi periferici osservano il luogo si deve abituare a quell'ambiente se io invece vado prima che ne so devo andare su un palco se riesco a salire prima quando non c'è nessuno mi aiuta e osservo poi certamente non questa cosa non vale per tutti nel senso assoluto ci sono dei casi ho avuto dei clienti che forse questa cosa non si poteva fare però generalmente quando io osservo il palco il luogo dove andrò mi sento un po più tranquillo perché spesso il nostro cervello anticipa al livello di cervello cioè di fantasia peggiora le cose per cui quando vado lì cerco di creare un ambiente più familiare perché è un po come se tu andassi a in un luogo che già conosci in un supermercato eccetera ti muovi con più tranquillità perché sai dove andare a cercare le cose lo stesso vale quando stiamo comunicando per cui pianifica contenuto l'importanza della voce pensiero concetto singolo logica e coscienza come ho scritto punto di vista degli altri e conosci l'ambiente in ultimo ti dico che ovvio che se commettiamo un cazzarola di errore non succede nulla è assolutamente normale siamo comunque degli esseri umani ciao